Da gennaio, servizio anche a domicilio. Quale futuro per il vecchio continente? È questo lo spinoso quesito al centro delle riflessioni di Filippo Pizzolato, docente di diritto pubblico all'Università di Milano Bicocca, protagonista della lezione di Unitré dal titolo Unione Europea di Soluzione o Federazione. Un tema complesso quello affrontato dall'accademico che, nel corso del suo intervento, ha approfondito tematiche di stringente attualità, offrendo alla vasta platea a corsa presso la sala di via Cesare Battisti una puntuale riflessione sulle prospettive di evoluzione delle istituzioni continentali. L'Europa è di fronte a un bivio, bivio tra l'imboccare la strada della sua dissoluzione, di cui già si avvertono i primi segni, e quello invece di un atto di coraggio che spinga a un deciso scatto verso la Federazione Europea. Un futuro tutto da scrivere è quello dell'Europa, che, davanti alle prospettive inedite dello scenario internazionale, deve essere pronta ad affrontare le sfide della contemporaneità. Scelte come quella della Brexit e l'alleanza May-Trump possono indebolirci ulteriormente? Io credo che inopinatamente potrebbero dare la spinta a un atto di assunzione di responsabilità da parte dell'Europa, non nascondersi più dietro il ruolo di alleato fragile degli Stati Uniti e prendersi cura direttamente dei suoi problemi, delle sue responsabilità, per cui penso che paradossalmente potrebbe da questi eventi venire anche un impulso alla Federazione. Una realtà istituzionale che potrebbe rappresentare la chiave di volta per affrontare emergenze di stretta attualità. La questione dei migranti è proprio la questione più emblematica dello stallo a cui è condannato l'Europa se non fa un passo verso la Federazione, perché c'è attualmente un regolamento, si chiama Regolamento di Dublino, che visibilmente non funziona, avrebbe bisogno di essere riformato con un riparto di tipo solidale tra gli Stati nell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti. Questo che è un atto di giustizia elementare non viene compiuto perché l'Europa rimane allo stato di un condominio rissoso di governi e in questa condizione non riesce a governare i processi.